Benvenuti ragazzi bentornati in questo nuovo video qua Kikomianzate che vi parla Oggi ragazzi siamo qua in questo nuovo video ancora di FIFA ragazzi Questo perchè sono tornato qua ragazzi per fare una Draft Challenge Non il 190 Anzi ragazzi la Dado Challenge Fatto questo io lo registrerò col telefono in mano perchè Devo lanciare il Dado e se metto il telefono Il mio solito palo ragazzi Poi non riesco a riprendere il Dado Poi magari voi non ci credereste E magari se mi esce un giocatore forte Non faccio l'online perchè online ragazzi C'ho ancora questo che ora vi farò vedere Non so se ve lo ricordate ancora Questo con messi ciocci Beh comunque usciamo Quindi ragazzi ora siamo a fare un bel Draft in singolo Una bella Dado Challenge ragazzi Accidiamo con 15.000 crediti Scegliamo prima di tutto la categoria Lo facciamo a campione Oh C'escono sempre qua i moduli buoni Ma magari intanto facciamo anche il 190 Non ci pensate Vabbè prendiamo il 343 in linea Sì Capitano ragazzi Bomba Tranne il 3 ragazzi Mi vanno bene Tutti ragazzi Tranne il 3 Come avete visto ci ha messi tozza anche Pronti ragazzi per il lancio E ovviamente è andato là sotto Non andrò a riprendere Non andrò a riprendere Guardate ragazzi che lo sto togliendo così com'è No si è girato Mannaggia lui Giriamolo Eh Ho detto tranne il 3 E' uscito il 3 Mannaggia lui Proprio l'unico che non volevo ragazzi E' uscito Lui Perfect Va bene Ma ragazzi Andiamo a prendere la S Un bel Ronaldo Ronaldo Hazard Tots E Neymar Moth Ragazzi Ho 2 Ovviamente se esce 6 Lo scelgo io Ho dimenticato di dirvelo Ma sai che faccio però Lo lancio qua 4 4 Neymar Moth Ragazzi E vai Così Questo cc qua Dai Allora 5 Dai Magari ragazzi Fanno un bel 5 No No vabbè raga Non ci credo Raga l'avete vista anche voi Sto lanciando tutto insieme a voi E' vero Cante Vediamo quest'altra pagina Cosa ci darà Eh 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 O De Bruyne O De Bruyne Sono 1 o 2 raga O 1 O 2 3 Peccato Buonaventura Però è sempre buono Ragazzi L'ATT Forte Cavani In Mertens Ragazzi 2 3 o 4 A questo punto A questo punto spero il 4 E il 5 Scusate 2 o 3 o 5 2 Cavani ragazzi Che bello forte Ovviamente sarà un draft senza intesa Però Fa niente Oh ragazzi O 2 o 5 E siamo a posto raga 5 5 Di Ares Bale Vai raga Eh De Bruyne 4 O 4 o 6 Ragazzi Così me lo scelgo io Vediamo 5 Quaresma Ragazzi Dopo facciamo il completa rosa Per le riserve Ok Lanciamo il dato raga 2 raga 2 1 Si tocca Mangic Schiva al cazzic Verrà una benic Oh Raga raga Tranne 2 3 Non benissimo Tranne 3 e 4 Non benissimo Tutti gli altri 5 Manolassi Più scarso Tra quelli che volevo Però E' sempre forte Un attimo Ma il braccio Intanto Qua Fa schifo al cavolo Quindi quello che mi esce Mi esce Non me ne frega E raga Abbiamo perso il dato Aspettate un attimo Che lo ritrovo Ok raga Dato ritrovato Lanciamo Lanciamo 2 Chi è? Masturbato Masturbate Poi ragazzi E' il portierone Oh Che schifo Ragazzi Tiriamo il nostro dato 6 La posso scegliere io Sinceramente con i difensori che ho 6 I due migliori 56 59 2 Lui Va bene Però ragazzi Sotto Facciamo con Y Completa la rosa Ragazzi Ma non è vero Ma non è vero che non me lo vado a giocare No dai Anche le riserve Poi i sostituti li facciamo a caso Con il completarose Riserve ragazzi Vai Vabbè argentoni Mi esce 6 Faccio Lo ritiro Lo ritiro 2 Altra riserva Ragazzi Oh Di bala Dai Un bel di bala Dai Un bel 5 Un bel 6 1 Che schifo E vrà Madonna ma Un'altra riserva Vai ragazzi E vabbè che schifo Che schifo Loro 4 Talalalavra Va bene Oh Dai raga Falcao Tejes 5 No ma che merda Non raro Va bene L'ultima riserva Poi ragazzi Completiamo la rosa Con cosa automatico Vai Qua a parte Il 3 Mi vanno bene Tutti Eh È ovvio Non voglio il 3 Chi mi dà Il 3 Ora si ragazzi Dai completiamo Automaticamente La rosa Che merda Uh Messi tutti No raga Non è vero Messi tutti Allora ragazzi È giusto un attimo La squadra Ci vediamo subito Ragazzi Un collo cutato Perché è davvero Ingiocabile In singolo Perché Non è a fuoco Ok Dai apriamo Abbiamo Un prezzo 81 85 Magari 85 Ragazzi Ragazzi Due pacchetti oro Schifo 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 E raga L'ultimo pack Oh Mille credit What the fuck L'ultimo pack Raga Vabbè Niente Bella raga Allora 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 Grazie.